Eeeh, what's up a tutti ciurma e benvenuti da giocherina in questo nuovissimo appuntamento con il mio Q&A Benissimo ragazzi, siccome appunto la volta scorsa mi avete lasciato diverse domande Eccoci qua, sono prontissima a rispondere a tutte Prima di andare avanti ragazzi vi ricordo che potete avere il 5% di sconto sull'acquisto di videogiochi Utilizzando il mio codice sconto sul sito digital24.it Trovate il tutto in descrizione Come ci trovate anche i link dei miei social mi raccomando andatemi a seguire soprattutto su Instagram Inoltre ovviamente ragazzi per un prossimo appuntamento con un Q&A Vi invito a lasciare tantissime nuove domande qua sotto nei commenti E lasciate anche un bel pollice in su PopSongs mi chiede Ti tingeresti mai i capelli? Se sì, di quale colore? Preferisci i capelli lunghi o corti? Sei fantastica, continua così, grazie mille Ebbene, tingere i miei capelli è una cosa a cui non ho mai effettivamente pensato Perché il colore dei miei capelli comunque mi piace Se dovessi proprio mai voler fare una pazzia Credo che me li tingerei tipo o di viola o magari tipo blu elettrico Cioè proprio una cosa pazza Per quanto riguarda la lunghezza dei capelli ragazzi Preferisco decisamente i capelli lunghi Voi ben sapete che io sono passata ragazzi D'avere i capelli lunghi tipo fino a qua, fino ai tette Ad averceli completamente rasati praticamente Ed è stato un cambio super drastico Veramente sapete una di quelle pazzie che si fanno tipo una volta nella vita Perché non lo rifarò mai più nella mia vita Ma non perché non mi sia piaciuto avere i capelli corti Perché ovviamente c'è i suoi vantaggi, è super comodo, è super rapido Quando te li devi lavare ed asciugare Però ragazzi già quando poi ti si cominciano ad allungare un po' Che comunque è tipo una mezza misura che non ha un senso Già allora cominci a tirare tipo giù tutto il calendario dei santi E cominci quindi a rimpiangere tantissimo i tuoi meravigliosi capelli lunghi Che potevi legare in qualsiasi modo Per fortuna ragazzi i capelli ricrescono Quindi adesso posso dire di avere una mezza misura Che comunque non mi dispiace Però non vedo l'ora che mi crescano Ovviamente non voglio averceli lunghissimi Perché comunque sono un po' difficili da curare Bisogna averci una particolare cura eccetera Però dire che almeno fino a qua non vedo l'ora di averceli ragazzi TheWolfDentonmenti mi chiede Ciao cara, immagino che YouTube fosse privato dalla monetizzazione E dai problemi di blog collegati ai problemi di copyright Resteresti comunque a portare video? Se sì, con la stessa frequenza? Dato che avrai la possibilità di portare più contenuti Senza rischiare di perdere il canale Cosa porteresti? A me per esempio non dispiacerebbe vedere delle tue reaction Mentre guardi un film o una serie tv Con dovuti tagli ovviamente Questa domanda è stata veramente molto molto curiosa A parte che giusto adesso ragazzi è successo tipo di nuovo un bordello Perché YouTube ha cambiato i parametri Attraverso i quali si può richiedere la monetizzazione a YouTube stesso Perlomeno continuare ad essere monetizzati attraverso YouTube E incredibile ma vero Io ci capito proprio in mezzo ragazzi a questa situazione Perché a fine dicembre 2017 Il network con il quale monetizzavo i miei video Mi ha diciamo fatta fuori tra virgolette Nel senso che hanno fatto un pochino di pulizia Quindi hanno visto chi comunque aveva il contratto scaduto Era un po' di tempo che poi tra l'altro è scaduto Cioè di regola Se nessuno dice niente ragazzi il contratto si rinnova da solo Però vabbè Infatti io stavo continuando comunque a monetizzare sui miei video E quindi hanno deciso di fare questa pulizia E a me mi hanno tagliata fuori Quindi mi hanno detto Guarda fino al giorno in cui ti scolleghiamo dal network Comunque ti diamo quello che ti compete Ovviamente quello che hai guadagnato Però poi ciao ciao chi si è visto si è visto Quindi ragazzi dal 29 dicembre 2017 Giocherina non sta monetizzando una cipa Adesso non è che lo dico per chissà per quale motivo Soltanto per informarvi Visto che comunque è uscita questa domanda Se YouTube non monetizzasse eccetera Attualmente ragazzi fino a fine gennaio sicuramente Giocherina non monetizzerà nessuno dei suoi video Non guadagnerà un centesimo sui suoi video Perché comunque intanto ho fatto domanda direttamente a YouTube Appunto per monetizzare i miei video Però hanno detto che purtroppo la questione della revisione Dei vari canali eccetera sta richiedendo più tempo del previsto Quindi ho mandato per un'email perché nessuno mi diceva più niente E mi hanno risposto dicendo guarda che comunque prima della fine del mese Se non oltre purtroppo non ci saranno novità Perché è un casino ragazzi questa questione adesso della monetizzazione su YouTube Quindi nonostante ragazzi io non stia guadagnando un centesimo Comunque ho continuato ad avere la stessa identica frequenza che avevo prima Quindi comunque sto caricando video ugualmente Avrei potuto ragionare così Avrei potuto dire a chi me lo fa fare Non ci sto guadagnando un euro Non carico video Eppure no ragazzi perché effettivamente Cioè poco mi importa dei soldi Discorso che di sicuro fanno tutti qua su YouTube Quindi magari adesso qualcuno mi verrebbe a dire Sì ma voi siete degli ipocriti Dite che non vi interessa Che lo fate per passione Però il fatto che non ci guadagnate un euro Vi rode Ragazzi sta questione della monetizzazione Io penso che ci farò un video apposito Perché adesso non voglio dilungarmi troppo Però mi fa girare abbastanza le palle Il ragionamento che fa una buona fetta di persone che stanno qua su YouTube Però vabbè Chiudiamo l'argomento Se no dura in eterno Quindi se non ci fosse la monetizzazione Sì continuerei a fare video Con la stessa identica frequenza E quello che sto facendo da quasi un mese a questa parte oramai Dopodiché quello che hai detto tu Vedere il reaction mentre guardi film o serie tv Sarebbe veramente molto molto bello Ti dirò è una cosa A cui avevo pensato un pochino ogni tempo fa Mi ricordo che stavo guardando un film horror insieme a Rodrigo Ed era un film horror schifoso Cioè una merda pazzesca Non mi ricordo che film fosse Siccome sono stata ragazzi per tutto il tempo del film A fare commenti negativi sul film Quindi era una vera e propria reaction Tra virgolette al film A quello che stavo guardando Gli dicevo a Rodrigo Mizzica Sarebbe figo fare una cosa del genere su YouTube Cioè tipo guardare un film in live Insieme agli iscritti E intanto commentarlo insieme Sarebbe una cosa fantastica Quindi se ci fosse questa possibilità Lo farei sicuramente Perché è un'idea molto molto carina Astrid esorbe su mi dice Come stai in questi giorni? So che è banale come domanda A me nessuna domanda è banale In questi giorni ragazzi sto abbastanza bene Io e Rodrigo siamo un pochino presi Tra virgolette Un pochino stressati Diciamo così Fra molte virgolette Perché sicuramente i motivi di stress sono altri Però diciamo che siamo un pochino presi Da un piccolo progetto Che abbiamo in cantiere Da tipo un paio di mesi a questa parte Che non riguarda ovviamente YouTube Non riguarda niente di tutto ciò E riguarda ovviamente la nostra vita personale Quindi in questo periodo un pochino con La testa impallata Però per il resto tutto bene MasterX mi dice Farei alcuni raduni in Italia O semplicemente direi che vai ad una fiera E direi che chi vuole può venirti ad incontrare Mi piacerebbe veramente tantissimo ragazzi Però sapete benissimo che io attualmente vivo in Spagna E quindi questa cosa mi è praticamente impossibile Se mai dovessimo tornare in Italia comunque E se mai dovessi avere la possibilità Anche economica E comunque di tempo Di andare anche a fiere O cose del genere Ovviamente ragazzi sarete i primi a saperlo Sempre MasterX Poi mi chiede Farei giochi in live con i tuoi iscritti Farei altri giochi non sense Come di andare ai simulator insieme a Rodrigo Le prime due domande erano a scopo personale Perché anche se non sei la mia youtuber preferita Mi piace veramente come persona E vorrei conoscerti Grazie di cuore Per quanto riguarda giochi in live con i miei iscritti Vorrei tanto però il mio tempo ragazzi Si riduce veramente tantissimo Perché per esempio Faccio un esempio stupidissimo Eri sera avevo pensato di giocare in live Però per la serie di Assassin's Creed ragazzi Dovevo aumentare i miei livelli di esperienza Insomma per poter proseguire le missioni principali Della storia principale E quindi ho perso un sacco di tempo Per aumentare il mio livello su Assassin's Creed ragazzi Per poter permettere alla serie di continuare in maniera fluida E quindi questo mi ha tolto un sacco di tempo Cioè di solito non ho molto tempo a disposizione Però lo vorrei fare tantissimo Vediamo cosa succede nelle prossime settimane Altri giochi non sensi Gli andare come gli andare simulatori Insieme a Rodrigo Insieme a Rodrigo ragazzi La vedo veramente molto molto difficile Perché comunque lui lavora E tre giorni a settimana Lavora mattina e sera Quindi il tempo insieme si riduce tantissimo E quando sta a casa lui ovviamente Comunque vuole rilassarsi un pochino Non stare insomma lì Gli dico dai registriamo un video eccetera Insomma non voglio stressarlo pure così Kira-chan dice Ciao Gio Spero tu stia bene E un bel po' che non sono attiva Per quanto riguarda i commenti Ho solo una domanda da porti oggi Quando ci sarà un nuovo cortometraggio? Il precedente mi ha veramente affascinata Ah forse non risponderai a questa Per caso puoi spolerarci qualcosa Per quanto riguarda il prossimo Sempre se ci hai pensato Un bacione a te che mi rallegra le giornate Sai non sto passando un bel periodo Mi dispiace veramente tantissimo Mi fa piacere che tu mi abbia detto Che ti rallegro le giornate Sono felicissima di aiutarti almeno così Con così poco Quindi ti mando un bacione Un abbraccione enorme Per quanto riguarda il prossimo cortometraggio ragazzi Non so dirti niente Non so dirvi niente Perché dopo che abbiamo fatto l'ultimo Non abbiamo pensato più a nulla di concreto Perché comunque come già vi ho detto diverse volte ragazzi Fare corti richiede veramente tantissimo tempo Comunque Io e Rodrigo siamo soli effettivamente Quindi fare in due un lavoro del genere È una cosa immane Veramente immane Che richiede moltissimo tempo Già solo sviluppare un'idea Richiede tantissimo tempo Quindi vi dirò la sincera verità Non abbiamo pensato a niente di nuovo Mi dispiace davvero Io ci sto Ci metto la faccia È proprio così il nickname Mi dice Come sistema operativo su uno smartphone Preferisci io su Android E perché? Io direi assolutamente Android Ma perché comunque sono con Samsung Gli smartphone della Samsung Praticamente da anni Cioè veramente Sono compagni della mia vita da anni Siccome usano Android Mi trovo benissimo con Android Per cui non penso che lo cambierei Mei Zinga dice Giocherai il bonus episode di Life is Strange Before the Storm? Non so se tu abbia già risposto ad una domanda del genere In tal caso ti chiedo scusa Comunque ci tenevo a dirti che ti stimo molto Sia come youtuber ma soprattutto come persona Un bacione Grazie davvero Purtroppo ragazzi Il bonus episode di Life is Strange Before the Storm Era presente nella sua Deluxe Edition A me era stata regalata Dal mio iscritto Marco La Standard Edition Quindi ovviamente non sono in possesso Dell'episodio bonus Addio Che vede come personaggio Max E mi dispiace tanto ragazzi Però vabbè Che ci possiamo fare Sono uno scemo qualsiasi Mi chiede Domanda Se potessi essere una supereroina Quale ti piacerebbe essere E perché? Davvero molto interessante Allora Io per quanto riguarda il mondo Se tu parli di supereroine già esistenti Non ti so tanto dire Perché conosco soltanto Wonder Woman E non è che la conosco poi così tanto Da poterti dire Wow Vorrei essere lei Se parliamo di supereroine inventate Quindi se volessi essere una supereroina Quindi volessi avere qualche potere Quale vorrei avere? Sicuramente ragazzi Il potere di volare Perché lo sogno da sempre Di poter volare E sicuramente il potere del teletrasporto Però non so se potrebbe servire Contro i malvagi Quindi magari Contro i malvagi non lo so Se ecco Adesso mi viene in mente Degli X-Men Tempesta Controlla Il meteo E questo è un potere Che ho trovato sempre Molto molto interessante Quindi magari Ecco Un pochino come Tempesta Vorrei essere Desi mi chiede Mi hai giocato a Pokémon? Se sì Qual è il tuo preferito? Quali sono i giochi Dalla tua infanzia? Ovviamente Ho giocato a Pokémon Ragazzi Ho giocato a tantissimi Pokémon A partire dalla generazione Che è uscita Sul Nintendo DS Quindi se non sbaglio Erano Pokémon Diamante E Pokémon Perla Ho iniziato con quelli E da allora credo Di averli giocati tutti Pokémon Bianco Pokémon Nero Pokémon Platino Oddio Cioè ce ne sono stati Così tanti nella mia vita Che non me li ricordo nemmeno Ovviamente gli ultimi Pokémon X Pokémon versione Rubino Che sto Ovviamente quella nuova Che sto giocando adesso E' uscito Pokémon Sole Che ho comprato Ma che non ho ancora giocato Il mio preferito Non ti saprei dire Perché li ho adorati Veramente tutti I giochi della mia infanzia Ragazzi Come? Non nominare Il grandissimo Crash Bandicoot Vorrei tanto comprarmi La Remastered Ma costa sempre 40 euro Maledizione Spyro Parliamo di PlayStation 2 Ragazzi Jack and Dexter Recep e Clank Tomb Raider Ma veramente tanti Ragazzi Giochi della mia infanzia Che mi ricordo sempre Con tanta gioia Davide Alfieri Mi chiede Qual è l'oggetto Di cui non puoi fare a meno? Sicuramente Ti rispondo L'orologio L'orologio Ancora prima del cellulare Ragazzi Perché Non so Sarà la mia natura Un pochino ansiosa Ma devo avere costantemente L'ora a portata di occhio Quindi devo avere costantemente L'ora a portata di coscienza Più che altro Cioè nel senso Devo sapere Ogni volta che desidero Che ora è Non so Non mi chiedete perché Però Veramente ragazzi Senso l'orologio Io vivo male Vabbè Non dico vivo male Che sa in che modo Però veramente sto male Ragazzi Se mi si scarica la batteria Sono costretta a togliermelo Non ce l'ho Mi sento veramente Che mi manca un pezzo del mio corpo Cioè come se fosse un pezzo del mio corpo Questo E dopo di che ti dico il telefono Sarò Vabbè L'ora degli smartphone Ragazzi Io penso che chiunque Oggigiorno Non possa fare a meno Dello smartphone Madonna Quante altre domande Ci stanno Ragazzi Vabbè Allora Io direi che per oggi Forse Ho passato già il mio tempo Per cui magari Userò le domande A cui non ho risposto oggi Nel prossimo Q&A Più altre nuove domande Ovviamente che mi lascerete Qua sotto Sempre se me ne lascerete Quindi grazie veramente Di cuore a tutti ragazzi Io vi mando un bacione E what's up A tutti Ciurma Da giocherina Ciao